Eventi importanti di caratura nazionale e internazionale che vedono Arezzo come protagonista di questa disciplina che non è uno sport minore ma ad Arezzo è diventato un palcoscenico grandissimo anche a livello turistico perché sono eventi di ampia portata che porteranno tante persone, tanti atleti e accompagnatori nella nostra città per cui hanno anche una rilevanza turistica. Oltre 10.000 gli atleti che arriveranno nella nostra città da maggio a luglio con la grande atletica che vedrà collaborare tre importanti società l'Unione Polisportiva Policiano, la Freerunners Arezzo e l'Alga Etrusca Atletica. È l'occasione giusta per dimostrare che Arezzo è un punto focale anche per quanto riguarda l'atletica e il podismo in questo caso che io ormai ho già conosciuto da anni per altre manifestazioni. Si comincia sabato 12 e domenica 13 maggio allo stadio Enzo Tenti con i campionati di società maschili e femminili. Sabato 19, prima giornata dei campionati provinciali individuali, ragazzi e cadetti e prima tappa del trofeo Esordia di 2018. Sabato 26 maggio i campionati assoluti di società maschili e femminili, un evento che vedrà arrivare ad Arezzo atleti di grande caratura. La troveremo oltre 1000 atleti in rappresentanza di tutte le migliori società della Toscana. Diciamo che la categoria allievi è il primo gradino dell'atletica assoluta, quindi abbiamo occasione di vedere i più forti toscani che sono anche molto validi a livello internazionale, quindi sarà un bello spettacolo. Grande attesa poi per domenica 27 maggio con la tradizionale scalata al castello. Accoglierà personaggi importanti, ancora non scopriremo chi saranno i protagonisti perché ci saranno già alcuni importanti personaggi che Arezzo sicuramente la colloca fra le migliori manifestazioni a livello internazionale. Il 2 e 3 di giugno i campionati italiani di staffette, prove multiple e 10.000 metri su pista Master. Infine il 29 e 30 giugno e il 1 di luglio i campionati italiani individuali Master. Tutte queste gare sono gare a ingresso gratuito, c'è uno spettacolo bellissimo, quindi invitiamo veramente la cittadinanza a partecipare numerosa. Ci saranno atleti che possono anche fare dei primati nazionali, forse anche di più, quindi ci auguriamo di, ripeto, di avere una grande partecipazione, un grande pubblico anche perché si dice che l'atletica oramai è lo sport più praticato nel nostro paese e quindi mi auguro che ci sia un riscontro oggettivo anche sul campo. Grazie a tutti.